Insomma che le classi ci siano ancora, non se ne parla perché non esistono, se non vengono definite, non vengono trattate, di fatto non esistono. Ciao Italiano, grazie di essere al podcast. Ciao. Senti, io ho apprezzato veramente molto il tuo ultimo libro che è Works, che è uscito un po' di tempo fa però, devo dire, è veramente, secondo me è uno dei libri italiani più importanti usciti negli ultimi anni, che racconta un po' la storia estesa e dettagliata perché dei tuoi lavori, dei lavori che hai fatto in vita tua, ne hai fatti veramente molti. E lo fa con una grandissima qualità letteraria, costruisci un mondo che poi insomma è quello della tua vita e lo fai veramente, veramente bene. Quindi è anche difficile capire un po' a dove iniziare, però una scena mi viene in mente, quando tu a un certo punto fai il lattoniere, che mi sembra di aver capito è stato, se non il lavoro che ti è piaciuto di più, comunque è uno di quelli che ti è piaciuto di più, C'è un momento in cui un tuo collega ti chiede di tenerlo, mentre praticamente viene sospeso, si sospende sul vuoto e lo fa nel modo più naturale possibile e tu lo tieni e un po' ti stupisci anche di questa naturalità. E non so, è come se quello fosse uno dei momenti in cui trovi qualcosa che non avevi mai, di cui non avevi fatto esperienza prima mi è sembrato. Non so se ha senso questa cosa che sto dicendo o no. Beh sì, per me ha molto senso, perché mi ricordo ancora anche molto bene, ci hanno passati molti anni, insomma, perché eravamo su un condominio, mi sembra piuttosto alto, lui si è sporto, cosa che non si dovrebbe fare, però si faceva normalmente, insomma, no. E mi ha detto tienimi per la cintura, tutto qua, io sono un volo, ho fatto cinque piani dall'altra parte e io l'ho tenuto per la cintura. Però insomma è un bel, bisogna avere fiducia, insomma, no? Sì, e poi dopo tu glielo dici, no? E non lo sconosciuto. Sì, infatti, è anche questo, per quello che la scena è molto forte, ma poi l'altra cosa interessante è che tu dici, a me era già capitato delle situazioni del genere, una volta avevo fatto anche, insomma, diciamo così uno scherzo che era finito bene per fortuna, però quando ne parlo con questo collega, lui praticamente dice perché cosa volevi fare, lasciarmi andare? Cioè, e c'è un po' questo contrasto, no, fra te, diciamo, comunque pensatore, no, è molto riflessivo e invece questa persona che non si porre neanche il problema, no? Sì, infatti, no, no, ma era così poi con tutti, no, poi a prescindere anche dalle simpatie, voglio dire, poteva anche capitare di lavorare con qualcuno che ti era antipatico, però su queste questioni non c'era mai nessuna perplessità. E capitava spesso, insomma, di affidare le proprie vite nelle mani di qualcun altro in quelle situazioni. E di quel periodo là tu parli anche dicendo, ma non c'erano tutte quelle piccole miserie che contraddistinguono la vita d'ufficio, non è solo una questione di stare all'aperto, ma anche mi sembra di capire di qualità umana, no? Un po'. Beh, perché lavorando, insomma, il lavoro manuale ha questo tipo di caratteristica, a meno che non sia ripetitivo e statico, naturalmente, no, comunque ti lascia probabilmente meno tempo per pensare, tutto sommato, e anche per divagare su questioni che non siano immanenti, insomma, per cui c'è meno spazio per tutte le, come posso dire, per quella rabbia repressa dopo tutto sommato, perché credo che se tratti di questo, che uno alla fine accumula in un ufficio, perché in qualche modo la sfoghi fisicamente. Quello è anche un periodo dove tu dici se hai riuscito a scrivere molto, nonostante lavorassi moltissimo, no? Comunque è un lavoro... Vero, vero, ma lavoravamo almeno dieci ore al giorno, specie nei periodi estivi, essendo un lavoro che si fa all'aperto, no? Eppure non ero così stanco da non riuscire poi a lavorare poi una volta a casa, a sera. Colpisce anche perché un altro, forse anche questo nel libro viene raccontato un po' come uno dei mestieri principali che hai fatto, comunque più centrali, è quello nella ditta di... che fa cucine, dove a un certo punto tu fai una rapida carriera, e però hai paura di, scalando ulteriormente, di non avere più l'energia e poi per scrivere perché è troppo concentrato sul mestiere aziendale, no? È così? Sì, 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 però anche questo me lo ricordo molto bene, e del resto l'ho fatta fallire molto presto, insomma, questa rapida carriera. Non so se volontariamente, però vedendolo da dove sono ora, insomma, col seno di poi sembrerebbe un po' così. La cosa che... scusami... Oltre al fatto, sì, che appunto che salire di gado tendeva anche a tirarmi fuori una parte di me che forse non mi piaceva molto, non so se fosse per quel potere che appunto salendo, facendo carriera, uno in qualche modo acquisisce, che però poi si paga, perché bisogna venire a patti con la produzione, col padrone sostanzialmente, che all'epoca comunque in quella situazione era una famiglia, insomma, fisicamente se non altro individuabile, presente. Non si trattava di una multinazionale, però forse non è poi così diversa. Questo effettivamente si sente molto, no? Da un lato mi sembra che tu sia ammirato in quel periodo, cioè comunque se non ammirato, interessato dal fatto che con tutti i suoi difetti comunque è un posto dove è possibile anche dare un po' sfogo all'intelligenza all'interno di un lavoro che di solito magari non ne concede così tanto, perché quello che fai di buono viene notato, viene visto. E dall'altra mi sembra ti spaventava molto proprio la dimensione di famiglia allargata, che devo dire ha risuonato molto anche a me mentre lo leggevo, perché anche a me le grandi aziende hanno questo aspetto medio-grande, insomma, di pseudo-famiglia che è abbastanza, non so, lo trovo abbastanza agghiacciante per certi aspetti, no? Tu dici la scena, io ho avuto un nonno che ha lavorato tutta la vita in acciaieria, poi gli hanno dato l'orologino, no? Ed è una cosa che spaventa, sinceramente. Sì, sì, almeno a me spaventava, Dio spaventa tutt'oggi, anche se nessuno mi darà mai un orologio, questo almeno sarà escluso, però sì, è così. Anche questo aspetto paternalistico, che poi può avere anche, come dicevo allora, c'è credo la storia di uno che ha dei problemi psichici e che in effetti comincia lì, proprio con dei problemi sul lavoro, a dare dei sintomi di questo squilibrio mentale, che però, tutto sommato, l'azienda non ha abbandonato, se no, proprio quando non era più possibile gestirlo, insomma. Per cui c'è anche questo senso di protezione, di appartenenza, anche se vuoi, che naturalmente anche quello lo paghi lavorando, facendoti sfruttare, se vuoi. Sì, c'è sempre questo bilanciamento, comunque in questo libro, fra appunto i costi del lavoro e poi anche, cioè comunque c'è anche lo sforzo di vedere un po' i problemi dall'altra parte, diciamo, non è un libro monodirezionale, questo anche lo rende, secondo me, più gradevole, benché la tua prospettiva sia molto chiara e anche forte in alcuni punti, però, insomma, descrivi anche molto bene anche quelle che sono le prerogative degli altri, no? Beh, se per altri intendiamo gli imprenditori avere quelli che danno il lavoro, sì, perché poi si rende conto che anche nella ditta di, insomma, di latoneria, per quanto il lavoro mi piacesse, cioè era veramente fatto in grande velocità, senza tutte quelle che sarebbero le regole di sicurezza che dovrebbero, a cui le ditte dovrebbero tenersi, però è anche vero che se si attenessero uscirebbero dal mercato, di fatto perché era, adesso non so se le cose tra l'altro si hanno cambiate, ma non credo più tanto, vedendo i numeri, no, delle morti sul lavoro, mi sembra che sia poi così tanto cambiato, insomma, per restare sul mercato, paradossalmente, non puoi restarsi in modo regolare, per cui il risultato è, insomma, quello che sappiamo, molti infortuni, molti morti, ma sembra che altrimenti non si può, è un po' come il caporallato in agricoltura, insomma, o come i rider di cui sentivo oggi, c'è questa notizia, che non è una sentenza, quello che ho capito, ma un indirizzo che ha dato la procura di Milano rispetto a questi rider, però se questi rider verranno messi effettivamente in regola, cosa di cui dubito, poi sarà possibile, cioè quanto costerà poi all'utente finale, mettere in regola questi rider, dunque sarà ancora possibile per qualcuno appoggiarsi a queste piattaforme, o costerà troppo. Certo, sì, lì io ho trovato anche, adesso non conosco nello specifico la cosa, quindi non vorrei dire cose scorrette proprio tecnicamente, però ho trovato un po' inopportuno l'espressione schiavismo, cioè schiavismo è quando uno non viene pagato, cioè semmai è sottopagato, non ha delle tutele, è va bene, però, no? Un po' demagogica come cosa, forse. Se l'hai detto l'altro non credo che si possa risolvere con un indirizzo, per quanto sia un indirizzo di una procura importante, E lì, proprio appunto, quella fase che stavi citando adesso, quando lavoravi per questa ditta di rattoneria, c'è un boom per ragioni legislative e fiscali, mi sembra, di costruzione di campannoni, se ricordo bene, e racconti proprio questa cosa, e dici alla fine è molto semplice alle volte raccontare tutto come se fosse buoni e cattivi, di qua però non era chiaro, cioè c'eravamo dentro un po' tutti, no? Mentre invece in altre circostanze sei un po' più... Tu dici, io comunque mi porto dietro una mia origine che mi fa vedere anche le cose attraverso magari la lente dell'odio e non ci posso fare niente, no? Dici in un altro momento. Dipende anche forse dagli ambienti in cui ti sei trovato. Beh, forse anche dall'epoca, no? Era il periodo dell'odio di Gloucester, se vuoi. Che però credo che in qualche modo, insomma, che le classi ci siano ancora, non se ne parla perché non esistono, no? Se non vengono definite, non vengono trattate, di fatto non esistono, ed è anche molto conveniente che non esistano. Poi, insomma, nel frattempo, quelli erano gli anni, cos'era, 80, 80, 90. Sì, la trasformazione era già in alto, però adesso siamo già ben oltre, no? E poi c'è una scena che tu racconti sia in Works sia in Testissimi Giardini, che è un altro bel libro, diverso, proprio nelle intenzioni, però anche questo molto interessante, che è quello in cui tu ti trovi in questo magazzino un po' improvvisato, dove poi spunta, diciamo, il padrone originale dell'azienda, ormai diciamo anziano, e ti ammonisce perché sei fermo e dice qua lavoriamo con i secondi, no? E c'è questo contrasto fra il magazzino che cade a pezzi con le macchine dei proprietari parcheggiato dentro e questo che dice lavoriamo con i secondi. Io ci ho visto anche un po' forse di una fase del Veneto, dell'industria familiare, c'è gente che comunque lavorava tanto, però poi anche bisogna vedere come, no? Esatto, bisogna vedere come. Ed altronde però c'è sempre questa contraddizione tra, come posso dire, tra quella che è l'immagine esteriore di un'azienda o anche di un bene e se poi si va a vedere come e dove viene prodotto quel bene, magari due cose, magari. Io temo che spesso non corrispondano, no? Un'immagine bella pulita esteriore del prodotto e invece magari lo squallore o anche delle cattive condizioni di lavoro in cui quel prodotto avviene, per l'appunto prodotto. Questo, secondo me, è uno dei nodi teorici più interessanti del libro che è quello della comunicazione, no? Qui c'è un certo punto, la comunicazione si è mangiata tutto, tornando sempre alla fabbrica di cucine, a un certo punto arriva la figlia, una delle figlie, insomma, della famiglia proprietaria che studia semiologia e che ha studiato semiologia e devono fare questo, vi costringono a fare questa, usando questo compensato marino, se ricordo bene, che non ha senso usarlo in quel contesto, in quella cucina, pesa tantissimo, crea tutta una serie di problemi tecnici, però si può comunicare molto bene, no? E questa è una cosa che torna nel libro, ma torna anche quotidianamente nella realtà e l'ho trovato molto forte, perché effettivamente il contrasto fra i bisogni proprio della comunicazione e poi quello che invece sono le cose nella loro realtà è molto forte oggi. Beh, è moltissimo forte, perché poi era lo stesso architetto che ci costrinse in un'altra situazione che era proprio quella forse prima della fabbrica di cucina quando mi ritrovai a disegnare dei negozi in franchising che voleva a tutti i costi questi profili di metallo zincato, no? Per avere proprio questa immagine molto tecnologica rispetto ai mobili con quel grosso problema che a lui piaceva perché effettivamente è anche più bella, anche per il mio gusto tutto sommato, la zincatura a caldo, che però determinati profili non supportano, per cui si invergono, si torcono e non possono funzionare. Però prima di arrivare ad accettare il fatto che non fosse possibile zincare a caldo questi profili, abbiamo buttato via una tonnellata di profili di metallo per convincerci, finalmente a convincere noi, a convincere l'architetto, che a caldo non era possibile zincarlo. E dunque dopo abbiamo ripiegato sul freddo e con molti altri materiali, mi ricordo, di quei negozi lì, che poi non decollavano, perché era una catena casual americana che andava molto bene in America, aveva cominciato questa campagna in Europa e anche in Italia, però si vede che non incontrava quanto incontravano. Forse non eravamo ancora pronti come popolo a ricevere questo tipo di immagine troppo tecnologica. per cui fu una o tra l'altro delle catene che trascinò a fondo quella ditta che poi fallì. E secondo te qual è la caratteristica proprio, diciamo, il concetto di comunicazione, come lo definiresti? Che cos'è comunicazione? Ah, beh, fai una domanda come si fa a rispondere? Credo che comunque siamo nella società della comunicazione, per cui le ricadute sono antevolissime, naturalmente. Il primo è questo scollamento, comunque un certo allontanamento dalla realtà, infatti si parla sempre più di realtà percepita, per cui poi c'è il reale e c'è la realtà, sono anche due cose diverse, sulle realtà ci mettiamo d'accordo e pensiamo che sia questa dopo le cose reali che ci accadono magari possono anche smentirle, cosa che però non vi intacca la realtà condivisa o che percepiamo in modo condiviso. Io stavo pensando anche appunto rileggendo adesso queste pagine che uno dei problemi forse anche è che siamo siamo chiamati a esprimere giudizi su una quantità di beni e di cose ma anche i materiali enorme sulla quale è impossibile avere competenza su ognuna di esse e quindi la comunicazione riempie un po' questo vuoto. Ad esempio io non saprei giudicare la qualità costruttiva di una cucina oggettivamente non è il mio tipo di formazione e quindi probabilmente anche se come dici tu nel libro nella maggior parte dei casi sono le donne delle coppie che sciaggono le cucine però diciamo se dovessi scelere un mobile non avrei i mezzi per giudicarlo tecnicamente anche se mi affascinerebbe molto l'idea e probabilmente e percepisco come sarebbe anche il modo almeno una variabile da tenere senz'altro in considerazione e questo moltiplicato più o meno succede a tutti su tante cose sì però poi ha anche poca importanza perché poi è più importante insomma quello che ci viene comunicato ricordo tempo fa Lessi anche interessante uno studio che fece tempo fa sui materiali tecnici della montagna per esempio che dimostrava che la differenza tra i materiali più tradizionali che avevano usati 50-60 anni fa rispetto a quelli di adesso la differenza era minima sì veramente nell'ordine almeno poi anche gli studi sono discutibili certo certo per specie di questi tempi visto che parlavi di competenze per giudicare le cose che ha veramente le competenze in realtà troppo ci si scontra anche scientificamente se è vero quello che dice anche Agamben no che anche la verità scientifica è in realtà la verità di una maggioranza di comunità scientifiche che condivide quell'idea a prescindere dal fatto che sia non sia la verità si decide che è quella sempre è lo stato attuale dell'arte e poi può arrivare benissimo lo studio che ci dice che non andava bene e che magari faceva pure di danni la storia di medicina piena di queste cose però vero è che non si può come farlo a decidere no questo è un problema è un problema grosso effettivamente questo anche applicato alla scienza secondo me rimane la migliore approssimazione nel senso che è vero è una questione di consenso diciamo fra esperti però al tempo stesso ci sono anche dei protocolli se noti beh però anche lì c'è un studio che dice che poi ci sono moltissime cose che in realtà non sono replicabili o non sono riuscite a replicare però vabbè è importante non vorrei adentrarmici troppo perché per l'appunto non sono un esperto però vero è che almeno il livello di comunicazione ci viene sempre detto la maggioranza della comunità scientifica per cui cioè non è una verità ma è una verità su cui concorda una maggioranza sì sì certo di pari evidentemente allora quelli che non concordano non so attualmente sembra che spesso vengono addirittura espulsi dopo beh sai come in tutte le discipline umane il cambiamento viene accettato fino a un certo grado no? però ecco secondo me nella scienza c'è il vantaggio che se effettivamente una teoria nella storia della scienza ci sono molti casi di scienziati dimenticati che avevano intuito magari 100 150 anni prima di altri delle cose però poi alla fine è venuto fuori come cosa il problema è per la spesso è per la persona singola per i suoi contemporanei è certamente che è per la persona singola certamente perché poi la scelta se c'è effettivamente una scelta la devi fare tu su te stessa se è davvero una scelta perché dopo sembra che non lo sia buona sì sì no ma sai sono i limiti secondo me la scienza è una buona è un terreno minotto no quello sì però diciamo è la migliore approssimazione che abbiamo ma non credo che pretenda di essere perfetta credo che sia cioè se non nella sua vulgata televisiva giornalistica eccetera credo che non abbia di queste pretese e credo che sappia di sbagliare però insomma è lo strumento migliore che abbiamo secondo me questo sì per alcune cose sicuramente va bene non contesto senti l'altro personaggio carismatico che c'è nel libro è questo architetto verso presso il quale tu lavori all'inizio che chiami lui che un po' ti introduce poi in un mondo che non avevi avuto occasione di vedere prima e anche se poi alcune cose già ti interessavano insomma ed è ed è un momento forte del libro non so me lo vuoi raccontare un attimo beh se è un momento forte è anche parecchio lungo perché sono quelli cinque anni in cui l'ho frequentato ed era veramente per me poi un altro mondo essendo uscito da una classe sociale piuttosto bassa dunque dopo mi confrontavo con una persona che invece non che lui fosse una classe sociale più alta del mio perché più o meno era partito anche lui ovviamente dal basso tanto che poi non era e non è architetto però ha il più grande studio di architettura che c'era anche attualmente in città e dunque è proprio un altro mondo anche proprio un altro approccio al lavoro la possibilità di consultare un'enorme biblioteca un modo di lavorare che non il cui non avevo proprio contezza che però paradossalmente faceva molto leva sull'immagine trattandosi di design e di arredamento soprattutto questo e lì arrivi anche a contatto diciamo col mondo quelle che chiami tu i veri ricchi che mi sembra ti piace anche abbastanza però poi non frequenterai più almeno per non nel libro come è stato una toccata e fuga perché non hai essendo anche una persona che ha sempre avuto in mente di poi di fare lo scrittore nel senso non ti interessava quell'ambiente lì anche dove spesso poi girano anche artisti come dici tu pseudo artisti c'è un momento di contesto anche lì bisogna distinguere tra le persone e l'ambiente certo sicuramente perché anche adesso lavorando come scrittore o come drammaturgo entro in contatto ma intanto lavoro con persone di un'altra classe sociale mediamente questo è abbastanza inevitabile però un conto è per l'appunto l'ambiente che dopo raccoglie tutta nel sé un conto sono le persone all'interno di ogni ambiente si trovano delle persone comunque interessanti la media però la media c'è un grande come dire è anche difficile si intende sempre che si danno altre delle cose che per un altro non sono scontate affatto come avere la possibilità di spostarsi quando si vuole spostarsi di passare che ne so per pantelleria per Roma come se uno passasse regolarmente ma invece avendo un lavoro fisso di sicuro non ti trovi a passare per Roma beh sì certo questo è un po' l'episodio che racconti rispetto al teatro e lì c'è secondo me anche una componente un po' di paraculagine dall'altra parte non è solo se passi e che magari volevano che passassi ma non ti volevano pagare ecco anche questo è accaduto è abbastanza normale da resto ci sono anche molti artisti che possano anche permettersi di passare certo nel senso ci sono certi lavori certe professioni che richiamano però che possono essere fatte almeno con un minimo di tranquillità solo se hai insomma qualcosa qualcuno di solido alle spalle però ecco ti facevo questa domanda che poteva sembrare un po' estemporanea o forse lo è non lo so perché invece c'era c'è sempre un po' più di non dico astio però di distacco invece con quella classe diciamo così piccolo medio imprenditore Vicentino Veneto eccetera verso cui tu sei molto più severo e invece lì per un momento sembri di dire beh questi tutto sommato nonostante tutto mi stanno più simpatici no? per quello te lo chiedevo beh una strada dopo uno è probabilmente anche sempre più cattivo con quello che è più vicino e di cui ha avuto esperienza in maniera più diretta cioè è anche possibile che sia questa poi è vero che insomma che in Veneto questa classe è piuttosto giovane per cui è un po' certa la tradizione che hanno i borghesi o anche i piccoli borghesi che comunque hanno un retrotello più lungo ampio ad esempio in testissimi giardini tu parli molto sì appunto parli del Veneto di Vicenza in particolare io ogni tanto ma non solo con te ma quando anche io vengo dalla provincia vengo da Bolzano figurati però penso ogni tanto quando si parla della provincia in genere male ci si dimentica che un po' tutta la provincia ha alcuni tratti simili e si tende ad appiopparli un po' solo alla propria non so se tu cosa definiresti proprio esclusivamente Vicentino in negativo o anche in positivo e cosa e cosa no perché io leggendo testissimi giardini ho detto beh questo però si potrebbe dire di tante di tante province questo invece magari un po' meno non so se tu ti sei mai posto anche questo problema beh questa è una di quelle cose che come dire che so cosa differente per esempio un Vicentino da uno di Treviso o da uno di Padova però quando me lo chiedono è veramente difficilissimo poi dirlo e appunto è difficilissimo dirlo però perché si è anche molto coinvolti come tu dici giustamente però è vero che ci sono dei tratti molto comuni non so quale possa essere un tratto comune ma mi vengono subito in mente i preti non la penso ricenza però avevo quello che mi disse quel qualcosa che mi disse che forse erano mio zio frate molto molto osservanti ma poco credenti non so se ci possa dire che sia uno specifico Vicentino beh insomma sicuramente al nord riguarda il passato perché adesso non credo che siamo ancora comunque così osservanti tu frequenti ancora la città o? ma è molto meno di quanto frequentassi prima dal fatto vivo lontano sia quando sono in Veneto sia quando sono in Toscana come ora quando sono in Veneto vivo in montagna per cui dalle città in sé sono distante sono trovato in una zona che non la riconosce come centro perché è più spostata verso Verona pur essendo ancora in provincia di Vicenza e Verona è una città anche lì completamente diversa scusami no figurati scusa tu e come è stata recepita le tue opere come è stata recepita a Vicenza diciamo in modo molto contraddittorio di sicuro non faccio parte del miglior culturale vicentino però contraddittorio significa che c'è anche qualcuno che l'apprezza evidentemente c'è qualcuno che l'apprezza ma si tratta spesso di outsider insomma anche loro un po' esclusi ma dal resto così è anche sempre andata perché come scrivo forse da qualche parte se non sei nato dentro le mura è difficile entrare e anche essere accettati forse ne ho avuto l'opportunità ma non l'ho colta non mi riesce bene sai cosa è che effettivamente anche sentendoti parlare forse quell'effetto di cui parlavo prima è proprio perché quando si cresce in un posto si tende a pensarlo quasi in una maniera identitaria col mondo cioè è quasi come se fosse tutto il mondo poi crescendo le cose cambiano però ce lo si porta dentro un po' questo beh nel mio caso temo che sia proprio così proprio tra l'altro neanche Vicenza proprio il mio paese che ha pochi chilometri 7-8 chilometri da Vicenza che comunque non è Vicenza si percepiva comunque forte il fatto che non lo fosse adesso mi immagino che le cose siano un po' cambiate però non è più nemmeno un paese sono messo che ne esistano ancora tu frequenti molto anche il mondo tedesco e uno dei autori di riferimento è Thomas Bernal chiaramente tra l'altro devo dire in maniera felice perché è il classico autore che viene copiato male mentre invece secondo me si vede chiaramente l'ispirazione ma tu stesso dici che gli scrittori che ti piace sono fatti per essere saccheggiati e no non lo copi in senso stretto però si sente che ha un'ispirazione forte e però non deleteria perché spesso le ispirazioni sono anche distruttive quando non creano un processo creativo interessante nuovo capita che lo sia ecco e il tuo rapporto col mondo tedesco com'è? il mio rapporto col mondo tedesco forse l'ho frequentato di più in gioventù adesso tendo ad essere molto più statico forse dovrei preoccuparmi anche riguardo a questo però vabbè anche un periodo in cui muoversi no attualmente è quasi impossibile però buono insomma sia a livello intellettuale che a livello proprio personale degli amici che vivono in Germania che sono tedeschi anche italiani che vivono in Germania anche tedeschi che ho cominciato a frequentare da adolescente a 14-15 anni il primo viaggio in Germania e poi mi sono ritrovato anche per vendere gelati e invece dal punto di vista culturale c'è qualcosa di quell'ambiente che ti interessa particolarmente o no? Quale ambiente? Tedesco ammesso che si si possa parlare di ambiente culturale tedesco diciamo eh sai dovrei conoscerlo ma non lo frequento perché poi le mie frequentazioni non erano a quel livello ma a livello molto più personale per cui per le letture sicuramente sì poi Bernard è diventato fondamentale perché mi ha indicato anche un modo di scrivere che mi era congeniale senza il discorso diretto era tutta una serie di cose che poi ho in qualche modo assimilato e come l'hai conosciuto Bernard? cioè come ti è capitato tra le mani? per caso come del resto ho anche scritto leggendo per primo il nipote di Wittgenstein perché l'avendo letto incautamente Wittgenstein incautamente nel senso che poi uno si chiede sempre cosa o almeno io mi chiedo cosa avrò capito di quello che ho letto però era una figura Wittgenstein si presta però cioè io è affascinante è affascinante però si presta anche a essere io feci la tesi credo della magistrale su Wittgenstein e non sono sicuro di aver scritto delle cose sensate ad oggi si 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 fare essere felicemente frainteso nel senso di che uno pensa di aver capito qualcosa anche si costruisce sopra qualcosa questa la sensazione la concordo pienamente e insomma siccome vedi questo libro Il nipote di Wittgenstein l'ho preso pensando a Wittgenstein che poi non parla nemmeno di Ludwig non del fratello che era amico di Bernand e lì scopri Bernand e da quel libro, dal nipote di Wittgenstein, dopo Lessi, tutto quello che riuscì a trovare, naturalmente. Conobbi anche il traduttore, uno dei traduttori, che era veneziano, che è veneziano. E in qualche modo sembra che lo abbia assimilato. Sì, senz'altro. E invece un'altra grande influenza tua è Beckett, dici, no? Sì, certamente un altro, che Lessi in un modo molto incauto, in te, in realtà. Cioè, proprio da adolescente, andavo superiori. Mi ricordo che avevo anche lì l'impressione, insomma, di momenti di euforia, perché era qualcosa che mi sembrava, no, di riuscire a capire e anche di sentire molto bene. E poi, scontro con delle opere veramente ostiche, tipo la trilogia. E poi, però, riprendendoli in mano, nel momento in cui riuscì a leggerlo in originale, tenendo per originale la lingua inglese, perché, come sappiamo, lui scrisse anche molto in francese. Però poi si autotraduceva, perché, insomma, era possibile leggere in inglese tradotto da lui quello che scriveva in francese. Mi è sembrato di ricepirlo molto meglio, perché non è un autore facile da tradurre. Soprattutto in traduzione si perde molto dell'umorismo terribile, perché è crudelissima, che poi ha in originale. E per cui, poi sono riuscito anche a leggere Beckett, in modo, spero, anche credo profitto, rispetto a quella che poi è la mia scrittura, insomma, sia narrativa che teatrale. Io non l'ho mai letto in originale, ma devo dirti che non mi stupisce questa cosa che mi dici, perché della perdita di umorismo, perché spessissimo nelle traduzioni italiane, da varie lingue, scompare un po' l'ironia di vari autori, o il tono umoristico qua e là, è un po' come se ci fosse un firewall a protezione di quello che può fare sorridere, o comunque, insomma, che vada in quella direzione, spesso con le traduzioni. Anche per una questione di ritmo, forse, della lingua. Questo può essere, però, con Beckett mi sembra veramente notevole, questo iato tra la vera e propria comicità che c'è in molte pagine dell'originale, e che invece manca introduzione, che sembra, almeno nel mio caso, credo sia stata una delle cose che me lo rendeva molto ostico da leggere in italiano, è molto più leggero, per quanto non sia comunque leggero nemmeno in originale, però da leggere in lingua originale. Forse c'è un po' questa cosa nella nostra cultura, che in automatico l'umorismo non è serio, no? Non so da dove ci derivi, però, insomma, è sempre abbastanza presente. Tu hai sempre avuto questa certezza, in cui in certi momenti, dici, ti sei anche aggrappato, che avresti fatto, saresti diventato uno scrittore, che devo dire, è stata anche una scommessa importante, nel senso che a un certo punto anche tu affidi proprio anche il tuo equilibrio, credo anche psicologico, oltre che il tuo futuro, a questa idea, no? Ed è... cioè, adesso sappiamo che ci hai fatta, ma non era così scontato, no? Cioè, era una scommessa, insomma, comunque rischiosa. Tu hai avuto sempre la certezza che sarebbe successo? Beh, con molti dubbi in mezzo, naturalmente, che tra l'altro continuano, perché non è che nemmeno adesso sia in salvo. Forse è vero, come mi ha detto una persona, forse dovrei dire la persona, che forse la scrittura è stata anche una cura, è ancora una cura, però è anche la malattia. Per cui, cioè, veramente, sono tutte e due le cose insieme. E a volte questo, devo dire che è anche uno di quei periodi in cui sembra più malattia che cura. Però è un continuo... È un po' un'altalena, insomma. Ma non penso però, adesso io non ci conosciamo, però leggendoti non credo che potresti farne a meno. Eh, però anche questo, non poter fare a meno di qualcosa, vuol dire essere dipendenti da qualcosa, e da cosa si è dipendenti di solito. Per l'appunto da una medicina, che però, se si diventa dipendente, può diventare, per l'appunto, anche qualcosa che fa male, in questo modo, diciamolo. Sì, anche se questo può essere, però al tempo stesso anche il tema delle dipendenze oggi mi sembra un po' abusato. Cioè, normale che... Però parlo sicuramente e sto parlando per me. Certo, certo. Sto dicendo che debba essere così per tutti. No, ma ovvio, ma... No, no, adesso io stavo allargando il discorso anche al... anche solo al concetto di dipendenza. Non ho detto che sia sempre una cosa negativa. Dipende di quanto diventa patologica, no? Cioè, è normale che siamo attratti dalle cose che in una certa maniera ci fanno stare bene. Adesso, mo' sembra che tutto... C'è tutta una corrente culturale antidipendenze, no? Ah, c'è una corrente culturale antidipendenza? Beh, insomma, generalmente, no? A livello mainstream, insomma, c'è un po' questa condanna di tutto quello, no? No, no. Cioè, che anche si passa, secondo me, su un mito un po' un po' corealistico dell'individualità, no? Come se esistesse un'individualità avulsa da qualsiasi cosa, da qualsiasi dipendenza con la realtà, da qualsiasi meccanismo di interazione. Cioè, il problema è che una dipendenza non consumi tutta un'esistenza, ma certi gradi di dipendenza esisteranno sempre, secondo me. Ah, beh, questo sicuramente... Sono d'accordo con te. Senti, però poi sono di dipendenze invece più famose, più, diciamo, le prime dipendenze che sono diventate note. Tu racconti anche un po' della questione delle sostanze nel libro e lasci un po'... non racconti alcune cose, le accendi soltanto, perché poi questo alla fine non era veramente lavoro, in senso stretto. Una cosa mi ha incuriosito, quando parli delle lucinogeni, no? Mi sembra di capire che ne facevate un uso, ne facevi un uso praticamente ricreativo. Cioè, adesso c'è un po' una nuova moda anche qua di sciamanica, diciamo, di... Qua è venuto al podcast una farmacologa che parlava appunto della cosiddetta rinascita psichedelica anche in ambito clinico, eccetera, no? Però sono tutte esperienze diciamo molto limitate e molto circoscritte. Tu invece, e anche, credo, le persone con te, ne facevate un uso insomma molto, molto frequente, no? Per un periodo, un periodo in cui anni 70, fine anni 70, inizio 80, in cui giravano con droghe ricreative, insomma. Però già allora c'era tutta una cultura sull'acido e sulla psichedelia. E del resto è un ritorno. No, no, certo, certo. L'uso terapeutico, no? Perché partì con l'uso terapeutico su sintetizzato da Hoffman, sembra, che lavorava per la Sandorz, la multinazionale del farmaco. Del resto anche la morfina, anche l'eroina, credo che sia partita come farmaco per contrastare la dipendenza da morfina, che è interessante. Sì, infatti. Adesso lo usano anche con l'alcol, delle dipendenze da alcol in Canada, tipo, mi sa che è stato proprio, non so se ha provato. LSD. LSD. Ah, per togliere la dipendenza dall'alcol. Sì. Ah, no, questo non lo sapevo. Non so che sta tornando, comunque, si sta, che c'è questo movimento, è uscito anche qualcosa di recente. ho visto che c'è anche un gruppo su Facebook che c'è questa roba. Ce ne sono diverse. Anche mi sembrava, mi sembra molto impegnativa come sostanza da usare insomma frequentemente, ero curioso di sapere come la vive. Ma del resto le droghe sono, cioè il fatto che vogliamo chiamarle così piuttosto che medicinali o altro. È molto una questione culturale, no? Certo. Beh, è un po' quello che dicevo prima sulle dipendenze. Però, insomma, quella mi sembra una droga abbastanza intensa, per quello ero curioso, cioè, nel senso, come la vivevi tu? Quante ne potevi? Beh, in modo molto spensierato, devo dire. Anche forse, senza forse, responsabile. Anche perché ho ben presente persone che hanno fatto viaggi e non sono mai più tornate. nel senso che c'è stato un prima e un dopo, perché prima erano delle persone, dopo aver preso quella pasticca, quell'acido, non sono più state le persone che erano prima. Ne ricordo più di una. Perché una delle teorie, appunto, di questa ripresa dello studio clinico ufficiale, diciamo, attorno alle lucinogeni, è anche questa teoria della dissoluzione dell'io, no? Cioè, è in quel senso anche la cura dell'alcolismo, perché dando un reset al cervello, resetta anche le dipendenze, no? Questa è la teoria, pare che funzioni abbastanza. E volevo sapere se quindi su di te, anche da un punto di vista di ego, ti ha cambiato la vita? Prima eri una persona diversa e poi hai avuto un approccio un po' più... Beh, questo forse non dovrei dirlo io. Prima facevo degli esempi con delle persone, però sono tutti esempi negativi, nel senso che dopo, rispetto a quello che erano prima, sono, come si dice in modo volgare, usciti di testa e mai tutto andati. No, no, ma io intendevo più una cosa... Non lo so... Non so se abbia effettivamente espanso i miei orizzonti interiori. Certo, per un paio d'anni trafficandolo, diciamolo, lo facevo un po' da test, perché li testavo io per gli altri. Dunque, ero molto irresponsabile. Però ci tenevi molto alla qualità del prodotto. Se vuoi. E poi, diciamo che forse mi è andata bene. Però non è una cosa che raccomando e ora non credo che... Ora come ora non credo che farei un acido. Anche a me. No, perché te lo chiedevo, perché comunque nel libro, nonostante appunto, come dicevo prima, il tuo punto di vista sia molto chiaro, eccetera, c'è anche un po' una visione complessivamente, soprattutto leggendolo, andando avanti nella storia, adesso non dico olistica, però c'è un un equilibrio poi di fondo molto forte che è una delle cose che lo rende gradevole secondo me. Quindi per quello ti facevo questa domanda. Ma stai pensando invece poi a un libro anche su quella parte di lavoro? Ma più che su quella parte di lavoro o su quel periodo? Su quel periodo, perché ancora naturalmente ho degli amici che risalgono a quel periodo e molti ne ho visti anche, non ci sono più, non ci sono più nel senso che sono proprio, ce ne sono andati durante quel terribile periodo che mi sembra che non dico che sia stato dimenticato, però non so fino a che punto sia stato davvero indagato e non piuttosto rimosso. vista la quantità di morti che ci sono stati proprio tanto per fare i conti della serva anche a parte che poi Vicenza era un centro dove esegirava veramente tanta. Verona, Vicenza. A parte la strage che ci fu allora poi ci sono come dire le conseguenze delle persone che anche molti amici che sono morti nel frattempo e che continuano a morire adesso per le conseguenze di quel che era accaduto allora. E non hai mai avuto in tutti questi anni la tentazione di fare il salto di dire ma invece che alzarmi la mattina per andare al lavoro tutto sommato potrei starmela letta un po' di più e professionalizzarmi ulteriormente su quest'altro lato diciamo. Quale lato? Lato diciamo della vendita del commercio che tu fa intuire insomma comunque è continuato per lunghi periodi però sempre come attività collaterale sotto... Beh perché credo che forse l'ho scritto anche lì che anche lì si va a quei livelli e il livello che ho intravisto nella mia breve carriera il livello che nel senso è un livello più alto che ero arrivato a intravedere devo dire che mi spaventava un po'. Cioè come genere di persone che avresti incontrato o come conseguenze o come... Forse ero forse non adatto insomma a fare quel tipo di lavoro perché è anche un lavoro molto stressante che di solito non ha un lieto fine insomma a meno che non sia proprio un livello altissimo nell'Olimpia che lo sa no poi bene andiamo a conoscenza di quelli che vengono a prendere magari ce ne saranno altri che vivono felici contenti però certo e un'altra appunto poi dopo tu l'altra parte di lavoro che lascia esclusa invece è quella quasi del tutto è quella culturale a parte all'inizio poi questo invece con noto attore e regista teatrale molto molto bella devo dire anche questa ben scritta e lì che differente trovi qualitative sul cosiddetto chiamiamolo così lavoro culturale invece lavoro vero e proprio cioè perché a me istintivamente anche come lo racconti ma mi sembra corrisponde alla realtà magari il lavoro in sé artistico è ovviamente meno pesante fisicamente però è più impegnativo anche da un punto di vista di possibili umiliazioni di bassezze che si fa la gente mentre l'altro invece è più impegnativo nel senso che ti porta via la vita mentre stai vivendo insomma non so se anche quest'altro la vita comunque se ne va in ogni caso hai ragione scopre sia nell'uno che nell'altro non so mi sembra forse però non so se sia una questione non vorrei neanche dare dei valori così diversi non so tornando alla latoneria mi sembra che quello forse è un lavoro molto più reale molto più concreto su cui uno si fa meno domande ecco perché comunque se devi saldare un tubo lo devi saldare anche se poi puoi parlare ore sul tubo dopo è saldato e non è impermeabile oppure no e in genere si discute per mesi o anni su chi ha messo il tubo migliore penso anche no 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 decisamente no mentre da questa parte è tutto molto più aleatorio ma dall'altro non potrebbe non essere così infatti l'altra cosa che salta all'occhio da questo punto di vista nella tua storia e quindi anche nel libro è che appunto tu passi da una carriera dove hai fatto progetti dove hai disegnato comunque hai contribuito ai progetti produttivi di cucine poi appunto hai lavorato con le lamiere a un certo punto quando fai mi sembra il lavoro in mobilità anche alla malutenzione delle strade tutte cose concrete che si possono vedere e si possono toccare una volta fatte e questo secondo me è una cosa che ha una una sua suo fascino una sua funzione e com'è poi passare invece delle cose che poi vengono stampate o vengono messe in scena ma non è la stessa cosa no decisamente non è la stessa cosa diciamo che quando lavoro a teatro mi avvicino di più a una certa concretezza sarà anche perché è una cosa che poi non si può fare da soli no per cui hai altre persone intorno che lavorano con te e poi vedi che esce qualcosa di concreto che viene fatto insieme insomma per quanto non sia la stessa cosa che una cucina o delle mie risaldate è comunque qualcosa di più concreto mentre la scrittura c'è una cosa voglio dire che è quasi totalmente astratta dopo si si concretizza nel libro ma il libro si di certo non è più come il primo libro certo non so se avrai provato anche tu la sensazione sì sì il primo libro che ti va in stampa non è convinto che l'oggetto ti cambierà la vita invece poi la vita non cambia poi così tanto no sono d'accordo ma tu hai mai visto una stampa di un tuo libro io ancora no volevo vedere l'ultimo ma poi c'è stato il covid mentre andavo in stampa e non mi hanno fatto una stampa neanche se c'è nessuna la tipografia assistere alla stampa io non l'ho mai non l'ho mai fatto e mi interesserebbe vederlo perché poi c'è anche questo a dire il libro è un oggetto ho fatto però se possa era divertente ho fatto però anni fa un racconto un racconto insomma un pezzo che mi avevano commissionato una tipografia che stampa bugiardini per medicinali è una delle più grosse quello è stato molto interessante devo dire anche vedere proprio la qualità della carta che è molto migliore quello di bugiardini di quello di liberi per dire perché è molto fine sì è proprio una carta di almeno così mi hanno detto di ottima qualità è anche la cura con cui li stampano è stato un viaggio interessante come mai cioè perché sono stampati con questa cura perché questo è lo standard che viene richiesta almeno qua da noi insomma interessante sì no ti dicevo rispetto al libro c'è da dire anche questo che tu poi insomma ne vedi qualche copia te le mandano puoi vederle da qualcuno che lo sta leggendo ma non vedi mai la totalità di tutte le copie che ci sono in giro no che insomma che il libro venda tanto o poco comunque sono molte di più di quante ne vedrai mai quello secondo me leva anche un po' a concretezza se potessi per assurdo vederle tutte assieme magari avrò un tema che mi farebbe impressione anche se non vendo così tanto ma ne chiedo però sì sì io capisco eh infatti però ho capito quella è una dimensione magari pensiamo qualcuno che vende qualche milione di copie a vederle tutte insieme sono veramente magazzini interi non so se esistono ancora i magazzini però sì vabbè magari qualche prima tiratura da 50.000 copie cose del genere esatto deve occupare abbastanza o comunque occupa per le che posta sicuramente bancali e bancali dello stesso libro impressionante un'altra cosa bella appunto di questo libro è la sua concretezza nel senso che molta della letteratura italiana contemporanea è molto poco dentro il reale ce n'è anche per carità però diciamo non è la corrente predominante invece tu racconti parte delle storie vere le tue storie ma poi anche con una definizione di dettaglio molto curata e infatti da questo punto di vista volevo chiederti anche il lavoro del ricordare cioè ricordare tutte queste cose passate da cui alcune sono passate veramente decine di anni immagino che sia stato molto complicato è stato un bel viaggio che mi ha anche costato parecchio a livello emotivo però sono anche io sorpreso di tutte le cose che sono riuscito a ricordare e non pensavo di ricordarmene però questo credo che faccia parte proprio della scrittura quando uno si trova a scrivere su qualcosa e attinge il suo passato almeno a me capita spesso di sorprendermi delle cose che mi rendo conto di ricordare non so se sia una questione di concentrazione il fatto che la scrittura ti costringe a concentrarti per cui probabilmente riesci a ritrovare delle cose che non pensavi ci fossero e ti è capitato confrontandoti magari con delle persone appunto protagonisti di questi episodi che emergessero delle cose che tu non ricordavi o emergessero in maniera diversa o hai fatto tutto il lavoro in solitaria no ho fatto quasi tutto da solo devo dire poi ho avuto il conforto però di sentirmi con degli ex compagni di lavoro che avevo anche perso di vista che hanno per l'appunto letto il libro finora nessuno mi ha detto mi è capitato un episodio spiacevole ma non ma non non era un mio ex compagno di lavoro e non si riferiva neanche al lavoro devo dire però i miei ex compagni che l'hanno letto alcuni magazzinieri anche un latoniere uno che era il mio superiore quando facevo cucine quello stesso lui con cui poi ho parlato lui volevo giusto chiedertelo come l'ha presa anzi mi ha chiamato l'ho presa benissimo anche se è vero che mi avrebbe detto probabilmente le stesse cose anche se l'avrebbe presa malissimo perché è difficile capire cosa pensa davvero però siamo tutto oggi in contatto perché lui è l'unico a cui dentro il libro annunci che scriverei di lui e lui molto sportivamente da uomo di mondo dice non c'è problema non c'è niente esattamente se me ne ricordo anche quel giorno che fui colpito da questa biografia della regina Elisabetta che gli aveva regalato quando dedica il biografo che era passato come ospite nel suo studio naturalmente e lì nello studio c'è anche l'eccezione che è questo tuo caro amico che tu distingui da tutti gli altri praticamente sì perché anche lui aveva questa storia che tra l'altro è ancora mio caro amico questa storia particolare rispetto a poi la fauna che frequentavo lo studio insomma anche come lavoranti ecco e aveva anche questa straordinaria cultura per me una grande testa che poi però la città non ha utilizzata non so perché motivi anche con Vicenza a Vicenza ci sono parecchie teste pensanti che però sono non non sono mai state sfruttate ecco nel modo migliore specie culturalmente a un certo punto nella fase della lattoneria tu incominci a distinguerti cioè a sentirti diverso in un certo senso da le persone con cui lavori un po' perché prima comunque tu sei geometra di formazione e quindi comunque lavorando in ufficio cioè più o meno dove più e dove meno comunque era un po' diciamo l'habitat nei limiti dell'habitat del geometro invece là no e secondo me c'è anche un po' la componente che però a quel punto sembra così leggendo ormai ti sentivi destinato anche definitivamente al lavoro di scrittore e tu come lo vivevi questo dualismo o forse anche una questione dell'età perché all'inizio quando c'hai 20-30 anni nessuno si fa troppe domande su cosa farai un giorno quando continua a cambiare di lavoro in lavoro tu ne hai fatti veramente tanti diversi sì troppi probabilmente diventi anche un'anomalia in un certo senso no e come dire non è che fai suonare un campanello d'allarme però la gente ci pensa un attimo sì lo fai suonare il campanello d'allarme sicuramente beh uno che continua a cambiare il lavoro inevitabilmente vuol dire che non riesce a stare in un posto e se viene come dire richiesto di saper stare nello stesso posto per una lunga durata per tantissimi anni non può che essere un problema però al tempo stesso sì no ma mi rendo conto che è vero che era interessante il fatto che riuscissi comunque a trovarli però riuscivo a trovarli abbassandomi di livello in un certo senso anche se poi era quello che volevo fare un lavoro manuale l'ufficio è come se non venisse tollerata la mancanza di fedeltà ad un certo punto perché tu comunque un'altra cosa che emerge al libro è che insomma anche quando che sono fedele no no che quello secondo me più che altro libero e poi però che ci hai sempre messo molta serietà nei lavori che hai fatto cioè si percepisce soprattutto in alcuni casi ma comunque anche in generale che ci tenevi a fare il lavoro in una certa maniera quasi come una questione di di onore anche in un certo senso cioè sì sì probabilmente è quello perché sono stato cresciuto in questo modo qua ho sempre tenuto a fare il lavoro che dovevo fare nel modo migliore è anche vero che spesso cercando di farlo nel modo migliore mi scontravo con una realtà che non accettava o comunque forse non voleva davvero che fosse fatto nel modo migliore ma nel modo più veloce e compatibile insomma che però non necessariamente è il migliore questo è vero sia in alcuni lavori diciamo privati che hai fatto sia nell'esperienza nel pubblico quando hai in mobilità quello è molto interessante quello forse ancora ancora di più quello poi può anche diventare un problema beh se lavori più veloci degli altri devi comunque darti una calmata perché sennò almeno così fu per me dopo è vero che il meccanismo pubblico è tale per cui fa anche essere che molti vi entrino pensando di fare una qualche differenza ma poi credo che si siano un po' fagocitati dalla burocrazia che tra l'altro non riguarda assolutamente il pubblico se tu questo lo racconti bene all'inizio anche nel mondo dei geometri no? si allora senti poi un'altra cosa che emerge è che nonostante tutto nonostante queste cose di cui stavi giusto accennando adesso comunque c'è una sorta di se vogliamo chiamarlo positivamente ethos se no ossessione per il lavoro nel territorio dove sei cresciuto dove hai vissuto cioè questa cosa emerge forte nel libro sì non so neanche se ci sia ancora forse c'è ancora ma magari non nei termini in cui si esprimeva allora però sì c'è un'ossessione forte per il lavoro del resto era una zona anche abbastanza depressa no? il Veneto non è che sia ricco da generazioni come dicevamo prima certo anche se adesso viene subito identificato con una certa ricchezza però è una cosa abbastanza recente ecco ma è una cosa una cosa interessante anche quando dici che nel racconto cinematografico televisivo questa cosa il Veneto esiste solo per parlare appunto immigrati piccoli imprenditori eccetera poi invece dici che non sarebbe male raccontare storie di rapine agli orafi e l'ho trovato a parte divertente ma poi molto vero cioè alla fine il racconto cinematografico o adesso con le serie tv non si allontana mai troppo da quello che è lo stereotipo giornalistico su un territorio no? magari ci sono tantissime storie molto interessanti e che non vengono quasi mai raccontate credo di sì io sono convinto che ci sarebbero insomma ma credo non siano state raccontate anche al di fuori di cinema e tv forse neanche in letteratura ma è uno dei motivi che mi sollettica a scrivere di quel periodo come dicevamo prima negli anni tra i 70 e i 90 se vuoi ma e cos'altro quale altro aspetto ti piace perché era bello devastante no? perché come forse scrivo anche lì girava tanto oro perché come saprai insomma a Vicenza c'è anche la Fiera dell'Oro un pezzo importante d'Italia è una delle più grosse del mondo che adesso è in Steinbay anche lei come tutte le fiere e per cui tantissimi oro e fì tantissimo oro sotto banco e dunque tantissimi contanti tantissima droga tantissime armi per cui diventava una miscela e infatti c'erano rapine anche lì settimanalmente rapine anche eclatanti tipo gente che entrava con il bulldozer in una fabbrica per rapinare l'oro che mi fa venire in mente un film di Michael Mann per dire però nessuno talmeno che io sappia solo c'è Carlotto che forse ambienta qualcosa in Veneto no? quei gialli sì anche se la serie tv che l'hanno tratta è una cosa secondo me inguardabile per cui ho visto io ho visto solo dei pezzetti però sono rimasto sconcertato è veramente veramente incredibile anche perché ci sono dei noir di Carlotto che sono buoni secondo me nel genere però insomma fatti bene essere nel genere no no infatti assolutamente non è certo una colpa no no assolutamente no era giusto per inquadrare il tipo di operazione però fatta bene e di sicuro la serie non è fatta bene beh mi conforta perché dopo io sono anche molto critico però a volte magari può essere che sia troppo però quella lì mi sembra veramente beh questa è stata comunque anche credo punita severamente dal pubblico cioè nel senso che ma poi era era sulla Rai Rai 2 ah su Rai 2 ma credo di aver visto solo degli spezzoni ed ero abbastanza allucinato concordo concordo poi non so chi sia conosco magari qualche attore non so di chi sia la regia di chi sia la sceneggiatura ma sai lì poi vai a vedere quali sono anche le dinamiche magari la richiesta era anche proprio fare una roba del genere non è neanche detto può essere può essere tu comunque hai detto appunto che scrive sceneggiature non è come scrivere cosa intendi no vabbè è scrivere ma è un altro scrivere sono diciamo che è una sì è un'applicazione della scrittura se vuoi anche il teatro volendolo però sulla scrittura teatrale c'è molto più controllo sulla sceneggiatura c'è molto di meno tu sei riuscito a mettere comunque mi sembra la scena dei pulimenti che è questa pratica di recuperare l'oro molto affascinante molto affascinante molto cinematografica anche a proposito appunto di cose che molto belle la professione non sa nulla della lavorazione dell'oro non può certo immaginarsi che un orafo quando per esempio lascia il suo laboratorio lo scortichi letteralmente nel senso che proprio scortica i muri perché la polvere d'oro che si produce si deposita e depositandosi negli anni diventano dei chili e comunque sì l'abbiamo utilizzata anche proprio perché aveva questa forza evocativa e in primo amore intendi no? sì il garrone tra l'altro lì a un certo punto parli anche del rapporto con la tua ex moglie della diciamo della tua propensione un po' sia sul lavoro che poi anche in altri casi in altri momenti della vita alla dipendenza ad essere dipendente però poi invece da punto di vista artistico sei assolutamente indipendente hai mai pensato a questa contraddizione cioè la contraddizione questo contrasto fra i due aspetti beh appunto è molto forte è molto forte e dopo sono indipendente nella misura in cui lo posso essere insomma magari visto da fuori sembra che lo sia di più di quanto non lo sia effettivamente ma c'è un po' una forma mentis anche del lavoro del lavoratore dipendente secondo te beh certamente ho avuto una grossa difficoltà poi ad adattarmi nel momento in cui non sono più stato dipendente no perché comunque certe sicurezze vengono a mancare c'è poco da fare cioè mentre prima dovevi semplicemente recarti al lavoro timbrava il cartellino a fare quello che dovevi fare a un certo punto uno ha tutto il tempo davanti a sé e si deve disciplinare da sé stesso alle volte non è poi così semplice farlo specie se non si ha l'abitudine a farlo e dunque almeno per un bel po' ho fatto fatica interessante perché poi anche la questione degli orafi sembra quasi l'estremo opposto nel senso che una persona che per un gruppo di persona famiglia che per fare un'attività imprenditoriale praticamente finisce per vivere in carcere mamma mia dopo l'hai visto anche no se hai visto sempre quel film di Garrone la casa dove abitava il protagonista che aveva tutte quelle inferiate aveva anche il direttore il balcone tutto circondato di inferiate era la casa di un di un mio amico casa abbandonata nel senso che adesso non è più né un laboratorio orafo né un'abitazione ed era proprio lo schema classico con il laboratorio sotto l'abitazione al primo piano è totalmente ingabbiata sia la parte abitativa che la parte lavorativa e malgrado questo si subivano lo stesso furti il problema è quando concentri regolarmente quando concentri troppa ricchezza in qualcosa di spostabile molto facilmente l'oro questo è sempre stato senti adesso poi ti lascio ma un'altra cosa l'altra tua passione una delle altre tue passioni mi sembra invece sia la moto anche quello è molto interessante a parte quella cosa che racconti non so se la fai ancora ma che facevi da ragazzo di passare con la moto fra due camion che andavano in direzione opposta eh quello quello l'ho fatto no no non lo faccio delle cose che non faccio più e quella che funziona per te è come una forma di meditazione ti rilassa da un lato si è un grande senso di libertà come quello provino un po' tutti i motociclisti specie all'epoca che il casco non era obbligatorio tanto per dirne una ma anche sulle sulle moto grosse non era obbligatorio all'epoca direi proprio di no perché da quando mi ricordo io non era obbligatorio sugli scooter e no vabbè no no non era proprio obbligatorio se andava via senza casco o qualsiasi moto infatti c'era una marea di morti e non è che sia consigliabile farlo però ha un grande senso di libertà proprio con le moto da enduro ho avuto questo periodo dell'enduro e lì quando andavi nei boschi andavo nei boschi se sai da noi è vicino le montagne sono vicine però adesso non si può più fare questo adesso non si può fare più un sacco di cose non si possono più fare diciamocela ecco io ad esempio mi ricordo non so se dopo si considera un bene o un male però è una realtà un sacco di cose non si possono più fare per il nostro bene si è questo è un tema grosso io mi ricordo a proposito di enduro da bambino avrò avuto 6-7 anni avevo due cugini molto più vecchi che mi portavano sull'enduro nel bosco era super divertente una volta ho fuso le scarpe perché ci avevo poggiato sul motore mi ricordo questa cosa oggi sarebbe una roba d'arresto portare un bambino di 6-7 anni su un enduro vabbè sì quello sicuramente avviene arrestato ma anche se sei il padre sì beh il padre che ti lascia andare sì sì vabbè sarà andato in prescrizione mettiamola così e poi di sicuro se ti beccano ti sequestrano in mezzo e ti tolgono la pazienza sì diciamo che ci stanno sì è un po' come se mettessero sai le cose per i bambini con la gomma a piuma è un po' come se stessero mettendo gomma a piuma in tutto il mondo per evitare che vai a sbattere la testa però poi il risultato è che vivi in un mondo di gomma a piuma un po' eh non vorrei tornare ai vaccini però eh va bene senti l'italiano ti ringrazio è stato molto a concedere il tuo libro appunto di cui abbiamo parlato è Works lo trovate nella descrizione c'è poi il link e anche l'altro di cui abbiamo parlato è Tristissimi Giardini però insomma tu ne hai scritti anche altri poi magari ne metto anche qualcun altro nell'elenco e niente grazie mille guarda non vedo l'ora non ti farò la solita domanda da cosa stai lavorando ma non vedo l'ora di leggere il tuo prossimo libro eh ti ringrazio di non parlare dai buona giornata grazie ancora anche a te grazie ciao 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 ciao